6 sorelle, trama puntate, venerdì 8 luglio 2022. Diana e Salvador, nonostante lo scontro avuto, sono costretti a collaborare. Devono infatti preparare l'atto di conciliazione, che migliorerà il loro rapporto con Don Riccardo e, allo stesso tempo, dovrebbe impedire ulteriori piani, da parte sua per portare l'azienda al fallimento. Lo scopo di Don Riccardo è quello di guadagnare, e quindi le Silva sanno che dovranno dare qualcosa, in cambio all'uomo per evitare di avere nuovi problemi, da parte sua. Blanca si sta riprendendo e Dolores si comporta molto male con lei, dicendole subito che non vuole che lei, provochi ulteriori litigi tra i suoi figli. Le Silva sanno che presto Blanca, sarà costretta a prendere una decisione dolorosa. Petra convince Celia ad uscire da sola con Joaquin, ma quest'ultima prova ha un affetto molto profondo, verso la stessa Petra. Victoria dice a Rodolfo che lo lascerà, se lui non soddisferà alcune condizioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.